A Castiglion Fiorentino si parla di accessibilità una tre giorni per dialogare con i massimi esperti per quanto riguarda i siti culturali. Sì, attraverso il sociale normalmente si abbattono le barriere. Farlo attraverso anche la cultura e l'arte è un stadio successivo. E questo vorrei in sintesi appunto sottolineare di questa iniziativa che si svolgerà a Castiglion Fiorentino dal 18 in avanti col Metropolitan di New York che avrà attraverso alcuni ospiti una adeguata accoglienza a Castiglion Fiorentino. Certo, unire il nome di un'istituzione come il Metropolitan di New York con il Museo di Castiglion Fiorentino può far sorridere e imbarazzare anche me. Però il messaggio è più profondo, è quello di cercare di abbattere appunto queste mura che dividono l'arte e la cultura da quello che potrebbe essere il mondo del sociale. Ecco, perché avete deciso di parlare di accessibilità? Appunto per questo, perché con questo progetto collaborano delle società, dei soggetti, anche delle cooperative, una di queste appunto è Coine, che ha facilitato l'accesso dei ragazzi e delle ragazze al nostro museo. A questo punto andiamo oltre, andiamo oltreoceano fino negli Stati Uniti per dimostrare che questa nostra accoglienza è valida anche per i ragazzi del Metropolitan di New York.